48 specie di volatili censite negli ultimi 5 anni, la presenza di piccoli serpenti difficili da incontrare, come ad esempio l'anatrice tassellata, una biodiversità come poche grazie ad un'opera di tutela e di salvaguardia da parte delle associazioni ambientaliste, riparte l'iter per definire sulla carta l'oasi naturalistica della foce del fiume Tordino, un sogno cullato per anni dal compianto Sandro Brandimarte, insegnante in pensione e presidente del comitato di quartiere annunziata di Giuliani. Il grande appassionato di fotografia, naturalista convinto, scomparso recentemente. Era stato lui, già otto anni fa, a sollecitare i comuni di Giulianova e Roseto e la provincia di Teramo affinché un tratto di almeno due chilometri della foce del Tordino venisse dichiarata oasi naturalistica. Ai roni cenerini, ai roni bianchi, spatole, cicogne, persino fenicotteri e altri volatili difficili da incontrare come il Cavaliere d'Italia, il Voltapietre, il Martim pescatore, anche qualche specie aliena come nutrie e tartarughe d'acqua all'octone, sono stati immortalati dallo scatto del professor Brandimarte, scomparso lo scorso mese di febbraio. Il suo desiderio era quello di veder nascere l'oasi naturalistica che di fatto esiste già, ma non sulla carta. Il progetto non è morto però con la scomparsa di Sandro Brandimarte perché a portarlo avanti sarà ora Nicola Di Battista, colui che lo ha affiancato in questi anni nelle iniziative di valorizzazione del quartiere annunziata e di tutela di tutta l'area faunistica del fiume. Il comune di Roseto ha già confermato il suo impegno per cercare di ottenere la denominazione, stessa cosa farà il comune di Giulianova, che già a suo tempo aveva inviato alla provincia con l'allora assessore Fabio Ruffini una lettera agli organi competenti per ottenere l'istituzione dell'oasi. È una porzione di territorio ammirata da residenti e dai turisti, qui sono state anche organizzate attività didattiche all'aperto con i ragazzi delle scuole dei due comuni per spiegare loro l'importanza della conservazione e della tutela della biodiversità.